Buonasera a tutti amici interisti bentornati al mio canale e benvenuti in questo super nuovo video Inter batte anche il Genoa 2 a 1 Non cliché stasera con un Genoa che davvero ci ha un po' in pensieri di un Inter molto molto stanca Ma portiamo ugualmente a casa il risultato più 15 Signori più 15 a inizio marzo Più 15 sulla Juventus che perde a Napoli E ci involiamo, ci involiamo ormai verso questo non più sogno ma questo grande obiettivo Chiamato Scudetto Seconda Stella Bentornati nel mio canale ragazzi mi raccomando iscrivetevi, lasciate like, spolliciate E' importantissimo, aiutatemi a crescere che grazie solo al vostro aiuto posso arrivare ai 400 iscritti Altro mio grande obiettivo Ragazzi andiamo subito al dunque Poi l'Inter si schiera in campo col solito 3-5-2 titolarissimi tranne qualche infortunato Sommer, Pavard, Evrai, Carlos Augusto che rileva bastoni squalificato Dunfris, Barella, Aslani che rileva Cialanoglu infortunato Mkhitary, Di Marco, Lautaro e Sanchez che rileva appunto Turam che veniva dall'infortunio e poi entrerà nel secondo tempo Andiamo subito al quattordicesimo dove Barella serve Lautaro al limite dell'area Scambia ancora con Barella servendo poi sul filo del fuorigioco di Marco Che però si fa parare da Martinez ma era in fuorigioco Sarebbe stato fuorigioco non sarebbe stato valido il gol Al ventitresimo Mkhitaryan per Barella una palla d'oro Una palla d'oro Barella si mangia un gol di piattone Clamoroso, clamoroso ennesimo gol mangiato da Barella Andiamo al ventisiesimo Grandissima parata di Sommer su Reteghi Sommer su Reteghi grande parata E qui la risposta del Genoa arriva finalmente Però dopo un buon inizio Inter non brillantissimo ma un discreto inizio Ci siamo mangiati quel gol con Barella che veramente un po' fa mangiare le mani Perché questo ragazzo quest'anno sta fallendo tante occasioni davanti alla porta Al trentesimo però arriva il gol bellissimo di Cristiano Aslani Il suo primo gol con la maglia dell'Inter Ufficiale assist di Sanchez che lo serve proprio sul filo del fuorigioco Lui scatta dalle retrovie e si inserisce un grandissimo gol di Aslani Servito da Sanchez che poi a tu per tu con Martinez lo fulmina sotto la traversa Ci portiamo in vantaggio e dopo 8 minuti arriva anche il 2-0 Che sicuramente scatenerà un po' di polemiche in questo post partita Perché il gol è di Sanchez sul rigore Il rigore è procurato da Barella che si mangia un gol Fondamentalmente di esterno di Tribela Prende l'esterno della rete Poi viene come posso dire falciato permettetemi di dire da Frendrup L'arbitro chiamato al VAR poi assegna il calcio di rigore Io ragazzi vi dico ho già sentito qualcosa Però già anche in diretta e anche dalle immagini Vi dico onestamente questo non è un calcio di rigore da assegnare Che poi abbia toccato il pallone o non abbia toccato il pallone Perché ora proprio nel finale di partita è uscito quest'altro aneddoto Che non si vedeva dalle immagini Ma anche qualora non avesse toccato il pallone È più un gol mangiato da Barella che il rigore da dare all'Inter Ma c'era il rigore esattamente uno o due minuti dopo Sul tiro di Lautaro Martinez con braccio mediamente largo Del difensore se non sbaglio Vasquez E lì il rigore non viene concesso Quindi diciamo che uno dei due fondamentalmente lo dovevano dare È stato dato probabilmente quello sbagliato Ma l'importante è che l'Inter si porta sul 2-0 E finisce qui il primo tempo Finisce il primo tempo, arriviamo al 46esimo Dove Darmiane rileva Dumfries che era stato ammonito E quindi subito lo fa fuori in Zaglia Anche un Dumfries non in grande spolvero Una partita un po' brutta Un po' brutta, un po' troppo molle Troppo distratto Dumfries Entra Darmiane e fa discretamente Al 52esimo Sanchez proprio per Darmiane Che è appena entrato dopo pochi minuti Per poco non trova la porta Ribattuto dal difensore del Genoa Al 54esimo arriva il gol del Genoa Con appunto un calcio d'angolo Poi viene deviato di testa Da, se non sbaglio è un calcio d'angolo Non ricordo, forse un cross normale Viene deviato di testa da De Vrij Al limite dell'aria arriva dal retrovie Vasquez Appunto, diciamo, in corsa E in buca In angolo E purtroppo Sommer non può nulla 2-1 del Genoa Andiamo al 59esimo C'è un tiro da fuori Di Carlos Augusto Grande prestazione di Carlos Questa sera Parato ancora una volta da Martinez In calcio d'angolo Al 65esimo Entrano a Cervi e Turam Per Di Marco e Sanchez Al 66esimo Annullato gol a Vidigna Giustamente per un fuorigioco Di un metro e mezzo Quindi abbastanza clamoroso Al 73esimo Entra Bissek per Pavard Al 74esimo Reteghi di testa Solo in aria Spedisce fuori Al 76esimo Entra anche Arnautovic Per Lautaro Martinez E all'82esimo Grandissima azione di Arnautovic Che serve di tacco Turam Altro numero di Turam Poi Barella Spara Altissimo E purtroppo È l'ennesimo Gol Uno nel primo tempo Uno nel secondo tempo Mangiato da Barella In mezzo ci si mette anche un gol Mangiato da Mkhitaryan Sempre il primo tempo Che ha tu per tu Con il portiere poi si fa Recuperare E spara addosso al difensore All'83esimo Bani fondamentale Ancora una volta Su Carlos Auguste Deviato in angolo Sempre l'Inter Che crea occasioni pericolose Il Genoa ci ha messo un po' in difficoltà Un tiro in porta Parato Egregiamente da Sommer Su Reteghi Nel secondo tempo Un tiro Un gol E poi Qualche altra occasione Solo una Veramente nitida Di Reteghi Quella che vi raccontavo Poc'anzi Al novantunesimo Altra grandissima parata Di Martinez Su Arnautovic Ragazzi Le palle gol Sono veramente Condiamo le 7-8 Per l'Inter Due Per il Genoa Non possiamo dire Che l'Inter Non abbia comunque Meritato La vittoria Perché il Genoa Per quanto abbia giocato Una buona partita E ci abbia messo in difficoltà E sia in uno stato Chiaramente di forma migliore Perché noi veniamo Dal recupero di mercoledì Con l'Atalanta Che non è stata una partita Comunque Dove abbiamo Sprecato poche energie Anzi Tutt'altro Quindi eravamo più stanchi Del Genoa E si è visto Soprattutto nel Metà Finale E di secondo tempo Ragazzi L'importante è questo L'Inter vince Ci portiamo a più 15 Ragazzi Più 15 Non c'è storia Quest'anno A me veramente Frega poco Di quello che diranno I milanisti Gli juventini E la marotta league 15 Punti Sulla Seconda In classifica Che fa Schifo Come Gioco Come Tutto Perdono punti A destra e sinistra Juve E Milan E poi Ci vengono a raccontare Della marotta league Ma perché non pensate Cari nifosi Juventini E milanisti Perché non pensate A vincere voi le partite Perché non pensate A vincere voi le partite A inizio anno Ricordatevi A inizio anno Tutti Tutti Davano Il Milan E la Juventus Tra le favoritissime Insieme al Napoli Per portarsi Lo scudetto E invece siete A meno 15 E a meno 16 A marzo A marzo Fate un po' di mia colpa Fate un po' di mia colpa Fatemi un esame Di coscienza Cercate di capire Che quest'anno Non ce n'è Per nessuno Per quello che è stato Dimostrato in campo Per quello che Il Cies Uno degli organismi Più Importanti A livello internazionale Di calcio Che assegna Come Lo scettro Al Manchester City Come squadra Più forte D'Europa E al secondo posto C'è l'Inter D'Europa Non d'Italia D'Europa Un po' di silenzio Un po' di silenzio Mea colpa Fate i complimenti All'Inter Come hanno fatto Persone Molto più Influenti E importanti Di voi Nel mondo del calcio E mi riferisco Ad esempio A Daniele De Rossi Che io ammiro Tantissimo Perché sta facendo Un grandissimo Lavoro a Roma Ma Così come sta facendo Un grandissimo Lavoro a Roma Ha ammesso La superiorità Netta Dell'Inter E questo Dovreste fare Anche voi Cari amici Ragazzi vi saluto Vi ringrazio Per essere stati qui Con noi E a tutte le cuche Che ci hanno sperato Fino all'ultima Forza Inter Sempre E a tutte le cuche E a tutte le cuche E a tutte le cuche